L'estate ormai è alle porte e non c'è niente di meglio di una bella uscita in bicicletta. Ma sulla strada, si sa, ci sono anche tanti pericoli e dunque bene essere preparati. La scuola primaria Don Milani di Sant'Anna a Lucca ha ospitato l'incontro conclusivo di Icaro 2015, campagna di educazione stradale promossa dal Ministero dell'Interno e attuata dalla Polizia Stradale. Ad aprire la mattinata è stato il comandante provinciale Calogero Laporta. Nel periodo gennaio-maggio 2015 l'ispettore Capo Angelo Chiocca e il suo sovrintendente Stefano Niccoli hanno incontrato complessivamente 302 studenti di 6 scuole, le primarie di Sant'Anna, San Cassiano a Vico, San Marco, Gallicano e Santa Marta di Viareggio, la secondaria di primo grado di Camaiore. Ai ragazzi è stato spiegato di quali dispositivi elementari essenziali alla sicurezza un velocipite deve essere equipaggiato. E' stata spiegata l'importanza dell'utilizzo dei sistemi di protezione come il caschetto, spiegate le principali regole di circolazione per la guida di un velocipete. I bimbi hanno mostrato sempre grande interesse, realizzando anche dei disegni con le cose imparate nel corso delle lezioni teoriche svolte in classe. Adesso sono pronti per uscire in bici.